Ragazzi ascoltatemi, messaggio per i super muscoli che vivono in città. Per tutti quelli che hanno le orecchie aperte e sono pronti all'azione. Mi è appena stata fatta una richiesta da parte dei Gremersi. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, quei ragazzi dai coglioni molli che vivono ancora. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a ben meglio. Grazie a tutti. Attenti a voi, guerrieri. This is Parklife. Avete capito, Valordi? Ok, tutto ok. Addio. Buongiorno a voi, super muscoli. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Hanno dovuto combattere e difendersi tutta la notte solo per salvare la pelle. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone. Grazie. 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 Grazie.